Bentornati su Namamamazzo e bentornati nella rubrica film in uscita. Oggi parliamo di Doctor Strange and the Multiverse of Madness. In questo video vi dirò tutte le cose che non mi sono piaciute di questo film. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, commentate il video con quello che viene parso di questo film e condividete il video con tutte le persone nel multiverso. Devo dire che questo film mi è piaciuto a metà. Una parte di me lo ha apprezzato tantissimo, ma un'altra parte di me ha trovato tanti difetti all'interno di questa pellicola e in questo video farò l'elenco di tutti questi difetti. Non temete, la prima parte sarà non spoiler. Partiamo con le note positive. Ramey alla regia è una garanzia, ma devo dire che Sam Ramey renderebbe meglio alla regia se non ci fosse così tanta CGI. Il bello di Sam Ramey sono anche quegli effetti pezzotti che ricordano appunto gli horror B-movie dei suoi anni, degli anni 90, ma anche degli anni 80. Qui hanno cercato di riprodurre lo stesso effetto con la CGI, ma in certi momenti si sente che l'effetto è troppo bello per essere Ramey. Mentre la cosa più negativa di tutte in questo film è la sceneggiatura. Esattamente come in No Way Home, la sceneggiatura è la parte più debole del film e non è poco dal momento che dovrebbe essere la struttura portante del film insieme alla regia. Ramey ha fatto tutto quello che ha potuto per fare un film molto bello, ma si sente che la trama è abbastanza inconsistente. La sceneggiatura, anche se non è come in No Way Home, è comunque molto semplice e annulla quasi totalmente la crescita di un personaggio con cui alla fine pare essersi risolto tutto semplicemente con delle belle parole incoraggianti. Anche gli altri personaggi che sono presenti all'interno del film sono più o meno potenti a seconda dell'esigenza narrativa e nel finale hanno un power up semplicemente perché sì, semplicemente perché in quel momento serve che crescano. Non c'è stato un vero percorso, un vero cammino che ha fatto potenziare i loro livelli. Ma ora andiamo nella parte spoiler, quindi se ancora non avete visto questo film vi consiglio di fermarvi qua, cliccare sulla scheda e andare a vedere tutte le cose che mi sono piaciute di questo film oppure continuate pure a vostro rischio e pericolo. Innanzitutto si parla di multiverso della follia ma fondamentalmente vediamo Doctor Strange e America Chavez che viaggiano solo in due universi. Se ci aggiungiamo l'universo all'inizio del film sono ben tre universi, quattro con quello dell'MCU. Non sono poi così tanti e soprattutto è su due su cui si concentra di più la trama al di fuori del nostro universo. Il primo è quello dove ci sono anche gli Illuminati, quello super evoluto e l'altro è quello invece quasi distrutto totalmente dalle gesta del Doctor Strange. Sono universi molto simili, quasi speculari solo che nel primo il Doctor Strange è stato fatto fuori dagli Illuminati nel secondo invece pare che il Doctor Strange abbia rovinato tutto ma sia rimasto in vita. Le cose che ho detto prima nella parte non spoiler sono riferite proprio anche ai personaggi di Wanda e di America Chavez. Wanda innanzitutto ha un percorso in questo film che pare annullare tutto il percorso che ha fatto in WandaVision e ciò nonostante alla fine con delle parole dolci che gli dice America Chavez mostrandogli i suoi figli che hanno paura di lei e di quello che è diventata riesce fondamentalmente a risolvere la situazione per non far finire Wanda come una totale cattiva quando è palese che è stata una totale cattiva dall'inizio del film e ciò nonostante comunque incoerente col suo essere totalmente cattiva dato che in WandaVision si era sacrificata rinunciando ai propri figli, rinunciando a visione per i cittadini innocenti di Westview. È vero abbiamo visto alla fine di WandaVision che lei stava cercando i suoi figli nel multiverso ma nessuno pensava a un piano così malefico e arzigogolato come quello spiegato nel film. Bastava semplicemente che lei andasse in una realtà in un universo dove la madre di questi due ragazzi fosse morta e ne avesse preso il posto non c'era bisogno di andare in un altro universo e sbarazzarsi della sua versione, della sua variante alternativa e tantomeno non c'era assolutamente bisogno di prendere i poteri di America Chavez e di conseguenza ucciderla. Lì ci hanno messo appunto un carico di briscola nella trama spiegando che voleva avere sempre sotto mano i poteri del multiverso per poter viaggiare nel caso i loro figli si fossero ammalati ma davvero è una forzatura esageratissima sembra che il nemico in questo film sia la non plus ultra mamma pancina non ha proprio senso ma hanno voluto che avesse senso perché altrimenti il film si sarebbe concluso dopo 15 minuti. A livello di struttura narrativa questo film secondo me ha un intro troppo frettolosa soprattutto per essere un secondo capitolo il secondo film di una trilogia secondo me dovrebbe seguire pedissequamente le strutture narrative del primo film e fare di più poi ovviamente non è assolutamente necessario anzi con questo stilema molti secondi film sono finiti male al box office quindi ci sta anche cambiare un po' ma il primo film era andato bene non vedo perché se non fosse che dovevano davvero mettere tante cose in questo film e quindi hanno tagliato l'inizio l'inizio in cui c'è America Chavez buttata lì così e scaraventata nel nostro universo è davvero molto frettoloso e questa struttura narrativa mi ha ricordato molto Thor Ragnarok in senso negativo ovvero un intro che si sbarazza in fretta delle cose lasciate aperte nel primo film una parte centrale dove la villain fondamentalmente è tenuta a bada da qualcosa che non è il protagonista perché il protagonista è altrove e il protagonista altrove che percorre delle avventure con un altro personaggio dell'MCU per poi ricongiungersi solo alla fine nello scontro finale davvero non ha senso qua la gestiscono comunque meglio di Ragnarok a questa struttura ma non capisco perché abbiano usato questo tipo di struttura narrativa la parte maggiore del multiverso è ambientata in questo universo dove ci sono gli illuminati che a differenza di quanto sperassi io quanto ho detto nei miei video, nelle mie live che vi metto qua in descrizione speravo che fosse un consiglio multiversale degli illuminati in questo modo avrebbero anche introdotto appunto i Fantastici Quattro avrebbero introdotto i mutanti e invece no, sono semplicemente gli illuminati di quell'universo dove finiscono e l'occasione per introdurre i Fantastici Quattro ma soprattutto i mutanti che dovrebbero essere inseriti anche retroattivamente nell'MCU anche stavolta è andata sprecata questo perché? Perché la figura di Chark Xavier la figura di Reed Richards insieme anche all'Inumano a Captain Carter e alla Captain Marvel interpretata da Maria Rambeau che ha preso i poteri al posto di Carol Danvers sono tutte mere comparsate sono tutti meri camei che non aggiungono nulla al multiverso che non aggiungono nulla al Marvel Cinematic Universe sono semplicemente lì per mostrare delle varianti del nostro universo questo spiega perché hanno usato anche Patrick Stewart per fare il Professor X una citazione a un franchise molto di successo degli X-Men ma sicuramente se fosse stato un Patrick Stewart scusate, se fosse stato un Chark Xavier che sarebbe poi finito nel nostro universo nel Marvel Cinematic Universe non avrebbe potuto portare avanti altri film vista la sua veneranda età quindi sicuramente opteranno per uno Xavier più giovane comunque avendo citato nell'MCU anche questo Chark Xavier che però fateci molto caso fateci molta attenzione non è assolutamente il Chark Xavier dell'universo cinematografico della Fox è il Chark Xavier dell'universo a cartoni animati dei cartoni del 1997 perché? Perché ha la sua tipica sedia a rotelle gialla e fluttuante non è assolutamente il Chark Xavier dell'universo cinematografico Fox di conseguenza anche Reed Richards è di quell'universo quindi in questo caso presumo che utilizzeranno lo stesso attore che tra l'altro è stato voluto a gran voce dal fandom e in quel caso probabilmente lo utilizzeranno per il film dei Fantastici 4 ma scordatevi che centri qualcosa con questa versione che abbiamo visto anche perché ha fatto una brutta fine arrivati a questo punto non si riesce a godere appieno un film della Marvel, del Marvel Cinematic Universe senza che si abbiano visto anche altri prodotti in questo caso è obbligatorio comunque aver visto WandaVision perché se no nessuno capisce che cavolo siano i figli di Wanda da dove arrivino e soprattutto se uno non ha visto gli altri film degli Avengers banalmente ma ha visto solo il primo Doctor Strange dice chi è Wanda, perché ha questi poteri, come li ha ottenuti spiegano cos'è il Darkhold però non spiegano tanto cosa è successo poi è ovvio che sono film puntati ai fan quindi sembra abbastanza strano che uno vada a vedere un film del genere senza aver visto i film precedenti diciamo che lo puoi fare magari con amici ma non ti devi neanche tra virgolette lamentare se non capisci le cose perché fondamentalmente sono indirizzati a un certo tipo di pubblico se ti interessano davvero li puoi recuperare successivamente però ecco, questo non è il film che vai per goderti un film è un film in cui vai per goderti un universo condiviso la Scarlet Witch ormai è potentissima è un essere addirittura profetizzato nel passato dal primordiale Darkhold che qua ci spiegano non essere un vero libro ma sono delle rune incise nella pietra anche qui hanno dovuto allungare il brodo per farci capire non lo so potevano benissimo far vedere che il Darkhold era indistruttibile invece l'hanno voluto distruggere ma far vedere che comunque era inciso nella pietra da qualche parte in questo modo hanno creato questo tempio antichissimo dove profetizzavano la venuta di Scarlet Witch però vi ricordo che comunque Wanda è fondamentalmente una potenziale mutante potenziata dalla gemma dell'infinito contenuta nello scettro di Loki e adesso che ha preso anche le rune del Darkhold è diventata la Scarlet Witch però non capisco come possa essere profetizzata non capisco neanche come possa esserci nell'MCU un demone dato che in teoria non ci sono demoni di questa dimensione dovrebbe venire da altre dimensioni come quella per esempio di Dormammu però non lo hanno spiegato l'hanno solo lasciato detto così questa è una cosa che forse l'hanno fatta proprio per le persone che vogliono vedere solo questo film però i fan della Marvel probabilmente meriterebbero delle spiegazioni più approfondite su cosa è un demone da dove arriva che differenza c'è tra un alieno e un demone di un'altra dimensione il Dream Walking il Dream Walking è un pochino abusato in questo film capisco che Sam Raimi o lo sceneggiatore si sono voluti concentrare su una tecnica magica una tecnica di stregoneria spiegarla bene e sfruttarla al massimo piuttosto che darci tante formule magiche all'Harry Potter che non significavano niente quindi noi alla fine del film sappiamo perfettamente com'è e come funziona il Dark Walking scusate il Dream Walking del Darkhold però viene quasi abusato prima lo usa la Scarlet Witch poi lo usa il Doctor Strange come se appunto non ci fossero altre soluzioni come se questa fosse la soluzione definitiva e poi nessuno che si accenna a dire non pensavo fosse possibile prima perché adesso si può camminare nel multiverso in teoria il multiverso è nato dopo che Sylvie ha tolto la protezione dell'unica linea temporale alla fine dei tempi però è pur vero che il multiverso è retroattivo quindi ci sta che anche prima noi avessimo sentito parlare del multiverso avete capito vero che era Wanda fin dall'inizio a minacciare America Chavez anche nell'universo dove c'era il Doctor Strange con il codino perché lo hanno detto ma forse non sono stati molto chiari l'hanno un po' lasciato sottointendere l'hanno detto in una frase veloce non è chiaro questo perché? perché spiegandolo in questo modo la trama viene molto rafforzata la sceneggiatura viene molto rafforzata ma probabilmente lo hanno aggiustato in corsa perché altrimenti tolta questa cosa sembra semplicemente che America Chavez sia inseguita da dei mostri in altri universi sia arrivata nel nostro universo e poi il Doctor Strange abbia spiegato che c'è un essere che ha questi poteri a Wanda e abbia fondamentalmente portato lui il nemico principale del film nella trama invece no Scarlett Witch già dall'inizio sapeva di questa America Chavez già dall'inizio la stava facendo fuggire dagli altri universi per farla arrivare qua e prenderle i suoi poteri quindi questo lo hanno detto l'hanno detto in modo poco chiaro ma soprattutto se era davvero così se non l'hanno aggiustata in corsa la sceneggiatura perché mettere quella parte che si è vista nel trailer in cui Doctor Strange e Wanda chiacchierano in cui lei sta facendo il doppio gioco non aveva più senso far arrivare direttamente Wanda a Camartage e far come si dice aprire la bocca a tutti dire oh no è Wanda pensavo fosse qualche mostro di un'altra dimensione secondo me sarebbe stata un'introduzione più onesta intellettualmente per chi guarda la pellicola che non questa cosa che pare l'abbiano aggiustata in corsa anche perché in questo modo il Doctor Strange ha fatto di nuovo la figura del Pirla cioè di andare a rovinare le cose quando se non parlava con Wanda non avrebbe scoperto che America Chavez era a Camartage quindi anche qui è una seconda volta in cui il Doctor Strange fa una pessima figura dopo No Way Home bene ragazzi io tutto quello che avevo di negativo da dire su questo film io l'ho detto se cliccate in questi video accanto troverete anche la mia recensione positiva da qualche parte nel multiverso con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti